Allora, ciao, benvenuti su Ereco Fondò, che ne dite di questo bel giustino? Allora, questa non è l'amico. Questa è un'approssimazione creata da più di un libro, consigliatori, simplicati, che ricreano il formaggio di classe della luce. Allora, ciao, benvenuti su Ereco Fondò, che ne dite di questo bel giustino? Allora, questa non è l'amico. Questa è un'approssimazione creata da più di un libro, consigliatori, simplicati, che ricreano il formaggio di classe della luce. Allora, questo non è l'amico. Chi è un bel giustino? Chi è un bel giustino? Chi è questo? Chi è un bel giustino? Chi è tu? Chi ha detto? Chi è giusto? Chi è un bel giustino? E' vera? 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 Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.